Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Ieri a pallanuoto centra la vittoria contro Acquare Franciacorta con un esito finale di 5 a 6. L'obiettivo era quello di tornare alla vittoria, sottolinea Buffa, e ci siamo riusciti nonostante fosse la prima partita dopo la sosta natalizia e la condizione non fosse ancora al 100%. Abbiamo gestito il risultato per tutta la gara senza mai andare sotto. Abbiamo concesso qualcosa di troppo nel finale ma sono contento perché ha aiutato la squadra con un gol il primo stagionale. Soddisfatto anche Zunino, è stata una bella partita, ha commentato l'atleta, combattuta fino all'ultimo secondo contro una squadra che non ha mai mollato. Un incontro che ci ha permesso di aggiungere tre punti ad una classifica promettente ma che ha anche confermato la nostra giovane inesperienza nel momento in cui la partita andava chiusa ed evidenziato errori sui quali nelle prossime sedute di allenamento il nostro mister saprà lavorare. Il nostro gruppo mostra sempre più fame di imparare e passione per questo splendido sport. JAPTV vi propone alcuni momenti della gara. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.